ben tornati ragazzuoli al nuovo episodio di resident evil set io sono le mas io sono il tartamala cosa accade ecco di qui io sento e l'ho all'ultima volta ci siamo fermati con la signora che ha iniziato a braccarci braccarci c'è ancora qualcosa no che l'ho levato eravamo andati a salvare qui eh sì da quella porta ci sono i ragni quindi in teoria sta là dietro in teoria spieghiamo nel meno possibile anche perchè non è tantissimo hello eccola la vedo la lanterna sinistra t'ha visto t'ha visto no 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 non voglio bigliacco mangiare beh oh sai calma mamma mia non c'è bisogno di essere così volgari dove si guarda queste ah le texture che si caricano tardi enigma nuovo enigma delle ombre cinesi che cosa sarà mai questo coso se non un ragno eccolo voilà abbastanza easy tutto il tutto costruisce questa merda veramente io ancora non ho capito come fa a crearsi il disegno con l'ombra comunque non regge la mia ombra cosa fattene così tipo davanti a me è un po' strano effettivamente oddio oh mio dio ma ci sono un inserio dai che schifo no perché oh Gesù bambino ma che schifo no mi cadono addosso che schifo ma guarda che striscia te devi pulir pulisci di pulir no non si pulisce no non mi frega niente ingostibile uh posso creare del no cosa Zoe hai provato di nuovo in truffolanti appena di sopra eeeh credevi che non me ne sarei accorta anche dopo quello che è successo Evelyn continui a bladerare di quella strana medicina cosa chiedi di fare col mio altare tieni alla larga quelle due dita appiccicose nessuno tocca al mio sacro altare pensi che io e tuo padre siamo degli idioti patetica razzina ragazzina viziata vorrei che tu non fossi mai nata imperdonabile patetica con la tua L di superiorità che credi di poter abbandonare la nostra casa dopo tutto quello che abbiamo fatto per te patetica 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 se mai ti becca a toccare il mio altare ti taglio quelle tettine ma dai come brasato mamma mia ok iiiiieeeh questa cosa è preziosissimo io non lo uso no 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 mi serve per questo l'ho usato l'ho usato l'ho usato qualcos'altro c'è un oggetto qua dietro ci sono degli oggetti nascostissimi oddio no non puoi abbandonare la moneta serve troppo aspetta niente eh lo devo lo devo togliere un attimo boh zettaccio ti sei intrufolato mentre non guardavo guarda lo ce n'è un altro scusa ma se se usi un altro proiettile ricarichi e si libera uno spazio perchè hai due proiettili ah forse guarda un po' che sono quei due proiettili là ah è la 44 magnum io mi ho fatto sprecare i proiettili ma che ne sai ma non è là ah ma c'è un ponte eh aspetta un po' eh con un giallo ma vabbè aspetta prima di usare una pura c'era un ponte quindi eh mi ricordo che c'era pure un altro ponte da un'altra parte però sta tipo di qua saranno contenti i dentisti di tutti questi punti combustibile altro combustibile questo era nascondissimo nascondissimo essere a mister everywhere era nascosta bestia quello eh senti io devo passarti accanto però la cosa non ti dispiace brucia 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 ok lo siamo messi mi sa che t'ha sentito ma scusa ma non c'erano insetti prima là da là sono usciti da lì si si eh ma non c'erano qui che palle sto coso ok è un momento di bruciare brucia please e poi stai morendo si lo so non mi ricordo come il giusto ok mamma mia le basi le basi per le altezze dove dove vai diviso due ok davvero davvero ho come l'impressione che i colpi non siano arrivati per qualche motivo oh ok manuella manuella usata prima manuella si sta mica utilizzo 5 ah te la sei ripresa ok oddio ho appena realizzato una cosa non ho comunque spazio oh ma scusa c'hai la c'hai la cassa qua accanto eh ma c'hai devo passare ma è vero sai che ti dico facciamo una cosa stava giallo comunque butti via le cure così abbiamo la chiave eh niente apposta la cosa eh che te pare vai a che sta qua accanto che dici che dici te ne vai te ne vai bravissimo rimangono comunque le tue apette del cazzo e dovrei andare alla cassa perchè escono dalla vedi che erano eh ma vai oh avete rotto i cucumeri eh una certa disperdetevi è bravo niente devo bruciarle quello eh si se no se no ti continua l'uscito vai 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 ottimo quattro colpi guardalo ma che schifo no te prego che schifo a parte quella ma ci facciamo male facciamo il giro di nuovo senti come sa ride insomma se n'è andato il marito arriva lei eh ottimo pure qua c'è ma eh si perchè l'hai lasciato qui prima ok è qualcosa tipo pure qua oh ah una cassa cioè una cassa una buono delle erbe dentro i vermetti ah pure qua c'era tanta roba ok combustibile combustibile hai la mano a pezzi oh salve ma sei tutta bruciacchiata cosa è appena successo ok sei andata cosa boh quanto pare vai siamo arrivati alla stanza allora le monete non ti servono la manovella credo non mi serva più boh usata addio mio magnum e lui ce l'hai basta niente a posto ma c'era altro è abbastanza normali 26 per la presenza not bad not bad not bad è uno stereo quello boh me li avevamo cercosato poi c'è il fluido senza sentirmi senza sentirmi in colpa ah no ho spiegato il fluido ok e andiamo ce la porta del corpo quindi adesso la famosa porta del corpo in realtà ce ne sono due di porta del corpo ah si era pure una tipo aspetta in effetti ce n'era pure un'altra aspetta che quella ce n'era una nella casa ce n'era una nella casa ah è vero è vero è vero è verissimo prima di andare avanti ma l'ero completamente dimenticata che caspita ci sarà dentro poi uno vede dici la mappa allora non è questa sicuramente no no ecco no quale serpente serpente il corvo io non la vedo si però me la ricordo che ci sta era tipo lì il salottino me lo ricordo me lo ricordo è vero forse non te l'ha segnata perché non hai interagito con la tua dove era di qua si deve entrare nella parete io sono sicuro che era di qua si si era qua appena esci che questa è il salottino con le cerve è vero verissimo piuttosto ho spazio per prendere ok si ho un po' di spazio prendere eventuali oggetti eccola là eccola lì infatti perché non me la segno eh vuoi vedere che perché non ce l'ho interagito che ci devo interagire si ah la meca chiave come al solito apri la oh oddio perché occupa due spazi troppi spazio hai troppe armi mi sa che devi lasciare qualcosa eh dobbiamo una volta sta cosa si oddio mio ci stanno i fermi no però mi sa che non l'hai aperta perché era chiusa boh comunque si devi lasciare qualcosa il mio telefono mi dice cosa le notifiche no ma deposidiamo 3000 cose allora polvere la sparo il fluido il fluido il fluido di etalo non so se mai coltellino mi serve cos'è che non ti serve tutte stermi da poco ti servono adesso scusa terbette in realtà mi serve questo diciamo non abbiamo munizioni quindi si può anche lasciare dentro ok altro sicuramente ci sono cose nascoste va bene va bene sicuro no ecco fluido chimico forte tra l'altro aaa cura come stiamo messi abbastanza bene 3000 erbette la pirai costruisce queste porte chi lo sa ma è accesa la luce wow effetto ragazzi vi siete creati proprio la bella casuccia una buona fitta in prati andiamo a usare prepariamo è il momento altri inserti yeee questa dovrebbe essere la stanza letta no ma anche meno violenta tranquilla no 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 oh pavimento 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 sotto di me aaa cico che faccio lo disparo necessario? boh ci stanno insetti insetti chiede fuoco sfoga a lei muori aia devi morì bruciare vabbè mi piri per il culo eh ei e non muore ma sti insetti e la coltella lì non mi stai prendendo mai ah no ti sta lanciando quelli cattivi ah 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 oddio no 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 io non ho detto questo affare sto mostro si sta sciogliendo o è acqua quella? sono di pinzetti e su questa disgustosissima immagine direi che vi possiamo salutare alla prossima al prossimo episodio bye bye